Sì, buonasera a tutti, mi fa molto piacere essere qui e soprattutto scoprire che le cose che vi racconterò questa sera, spero il più brevemente possibile, si collocano in una sorta di linea di continuità ideale con quello che è stato raccontato poco fa. Gianluca ed io ci occupiamo di ragazzi della scuola superiore, quindi una fascia di età un pochino diversa rispetto a quella che fa riferimento a fuori legge. Ecco, naturalmente lavorare sulla costituzione di un gruppo di lettura per adolescenti, di adolescenti e con adolescenti, ha richiesto una lentissima gestazione, quotidianamente attraversata dalla convinzione che la strada da percorrere sarebbe stata accidentata e che le previsioni più ottimistiche si sarebbero continuamente intrecciate con le inquietudini, i ripensamenti, le fatiche di una relazione quella tra la lettura e gli adolescenti, ma anche quella tra questi ultimi e gli adulti bibliotecari che sapevamo essere fragile, ma nel medesimo tempo gravida di inespresse potenzialità. Volevamo intercettare gli adolescenti incrociati a scuola, che sapevamo spiaggiati sui divani di casa per interi pomeriggi o dediti al bivacco in città e offrire loro nuove occasioni di incontro caratterizzate dal libro e dalle storie come dispositivi di aggregazione di crescita. Ma questi alieni dinoccolati ci sembravano, per usare un'espressione che ci è piaciuta molto di Giussi Quarenghi, degli autentici reperti provenienti dal futuro, da un altrove cioè che ci sembrava davvero molto estraneo. Ovunque si posasse il nostro sguardo, l'adolescenza ci veniva restituita come un'età perturbante e liminale, un coacervo di contraddizioni, poiché idealizzarla come età dell'oro in cui tutto, dall'identità sociale a quella professionale o relazionale, era perennemente emendabile, iscritto nell'universo dei possibili e sostenuto dall'alleanza con un corpo pressoché invulnerabile. Dall'altro però ne prendevano le distanze con giudizi perentori e qualche volta svilenti. Non so se vi è mai capitato di sentir parlare dell'adolescenza come di un'autentica sventura. Questi ragazzi sono svogliati, sciatti, non hanno il senso del dovere, si muovono in branco, sono dei vandali, eccetera eccetera. Come se non bastasse, da più parti ci veniva ricordato che la lettura, proprio perché riconducibile ad un'attività scolastica, per sua natura obbligata e soggetta a valutazione, difficilmente avrebbe potuto essere percepita e sperimentata come esercizio di libertà o come spazio del desiderio. Avevamo però intuito, da qualche occasionale chiacchierata con alcuni di questi alieni, una sotterranea richiesta di vicinanza empatica alle fatiche della crescita. Una vicinanza che sapevamo che avrebbe potuto sostare anche tra le pagine di un libro. Ci pareva che le narrazioni, in qualunque forma si declinassero, dalla parola alla musica, dal cinema al graphic novel, rappresentassero per queste ragazze e questi ragazzi la possibilità di giocare continuamente sul piano fantasmatico la propria storia, attivando così quel processo di simbolizzazione che sta alla base della costruzione dell'identità. Vagando indisturbati tra le pagine di un libro, questi lettori giovani avrebbero potuto esplorare, ne eravamo convinti, l'intera gamma delle esperienze umane, dando così cittadinanza ai propri vissuti, anche quelli più spaesanti, in cerca di legittimazione. Lentamente, ne eravamo certi, avrebbero colto anche il carattere sovversivo delle storie, il loro essere delle rappresentazioni del mondo sempre diverse e sempre dialoganti, una sfida senza appello ai pregiudizi esistenziali. E la biblioteca, serbatoio per antonomasia di una pluralità di narrazioni, sarebbe potuta diventare lo spazio innanzitutto mentale dove comporre e scomporre la propria cartografia emotiva, guidati da quelli che abbiamo immaginato potessero essere dei libri bussola, delle storie pifferaio. Armandoci di molto coraggio, allora facendo della nostra strutturale dissennatezza un'arma potente per il contagio di lettura, abbiamo dato avvio al progetto innanzitutto chiedendoci come rendere appetibile un gruppo di lettura. Allora abbiamo deciso di giocare una nuova partita con la Scuola Superiore del Territorio, stringendo un'alleanza strategica con molti insegnanti che hanno preparato con sapiente perizia il nostro allunaggio nelle aule. Mi fermo un secondo perché devo prendere una cosa. Siamo sbarcati a scuola, non so se la vedete tutti, con questa valigia che ha suscitato, vi lascio immaginare, molta curiosità, chiedo scusa, perché c'è scritto cioccolato e quindi i ragazzi pensavano che noi fossimo arrivati a scuola a regalare dei cioccolatini. In realtà dentro, come potete immaginare, ci sono libri, film, fumetti, manga, cd e quant'altro la biblioteca può offrire. Abbiamo mostrato tutte le storie che c'erano in questa valigia, le abbiamo raccontate intrecciando i fili dell'illustrazione delle opere pittoriche con quelli della musica e del cinema, riuscendo a tessere una trama immaginale che, dicevamo ai ragazzi, e questo è stato il trucco, avremmo potuto replicare molte, molte volte ancora, insieme a loro, in biblioteca. Qualche tempo dopo queste scorribande scolastico dal sapore passate, un po' donchisciottesco, abbiamo avvistato i primi timidi, nascosti, tentativi di avvicinamento alla biblioteca, da parte di adolescenti solitari o di piccoli gruppi, qualche volta chiassosi e scomposti, che chiedevano innanzitutto una relazione calda e accogliente, costringendoci così a reinventare, come avevamo previsto e come si diceva anche prima, il nostro ruolo. Non si trattava infatti di esercitare con scrupolo, o comunque non si trattava soltanto di fare con scrupolo il nostro mestiere, ma anche di sorvegliare, facendo attenzione a non esercitare forme mascherate di proselitismo, quel processo di costruzione del lettore che faceva capolino dalla nebolosa adolescente. Ci è parso subito chiaro che occorreva innanzitutto imparare a nominare i ragazzi uno ad uno, pronti a ricordare ogni singolo frammento di quella storia personale che incominciavano a regalarci. Molti di loro ci hanno raccontato delle storie legate alla propria famiglia, molto personali, estremamente toccanti e in quel momento era chiaro che non dovevamo fare i bibliotecari, ma semplicemente stare ad ascoltarli e ricordarci che Corinne piuttosto che Daniela ci stavano regalando una parte di sé. Avremmo poi dovuto inaugurare una relazione di parola in grado di far tacere l'ipocrisia di tanti discorsi adulti, una relazione di qualità in cui ciò che si promette si mantiene e ciò in cui si dichiara di credere è ciò che ci si sforza di fare. Avremmo dovuto poi metterci in gioco in prima persona, costruendo lentamente ma con maestria una competenza come reading advisor, certamente riservando molto del nostro tempo libero alla caccia di storie. Infine, riconoscendo le fatiche di autonomizzazione e di affrancamento dal mondo rassicurante dell'infanzia, avremmo dovuto appellarci al codice dell'azione, lanciando sfide vere che da un lato avrebbero comportato qualche rischio ma dall'altro avrebbero consentito una verifica sul campo delle loro competenze, competenze musicali, di parola, tecnologiche, di scrittura, di narrazione. Rispondere alla loro chiamata nella forma di un gruppo di lettura avrebbe allora significato non tanto, e lo si ricordava di nuovo prima, non tanto rieditare le modalità di funzionamento già sperimentate dagli adulti, quanto dare cittadinanza alla giocosità della dimensione sociale, al piacere di condividere emotivamente la fascinazione delle storie. Con queste premesse, che ci hanno impegnato davvero molto a lungo, abbiamo raccolto la sfida e fissato la data del primo GDL, una sorta di blind date, di appuntamento al buio, quanto alle aspettative e ai timori. Da subito ci siamo preoccupati di connotare i nostri appuntamenti come occasioni di incontro scansonate e in qualche misura pericolosamente destrutturate, spesso aperte da un aperitivo casereccio, qualche volta preparato proprio da noi. Doveva essere chiaro, già nell'invito a partecipare, che non si trattava di una replica annacquata delle analisi del libro testate a scuola, né di un palcoscenico per gli esibizionismi dei lettori forti. Volevamo far sperimentare, in un contesto accogliente e sgombro da valutazioni, di nuovo il potere di fascinazione delle storie, il loro carattere resistenziale, direbbe il professor Mantegazza. Naturalmente, senza dimenticare l'alveo istituzionale che avrebbe conferito a questa attività la dignità di servizio pubblico. Non so chi di voi ha fatto un giro di sopra in biblioteca, se l'avete fatto vi sarete accorti che la biblioteca di Cologno al momento non ha uno spazio appositamente dedicato agli adolescenti. Ma Gianluca ed io ci siamo inventati un escamotage, e cioè ci siamo attivati perché questi appuntamenti potessero essere ospitati in un luogo visibile, ma a riparo da sguardi e orecchie invadenti, come immaginavamo potessero essere quelle di genitori o adulti in generale, incuriositi e qualche volta decisamente impiccioni. Nella sala che solitamente riserviamo l'ascolto di musica o di visione film, abbiamo costruito allora la Tana. Abbiamo recuperato un manifesto dalla grafica cattivante, che recava, reca scritto, non siamo qui a far ballare la scimmia, qualche sedia a corollario disordinato di un tavolo virtuale, un videoproiettore, un portatile, musica, manga, libri, qualche rivista tematica, il tutto rigorosamente bandito ai maggiori di vent'anni. Le mosse di apertura sono sempre state di pertinenza della bibliotecaria o del bibliotecario, insomma, o di me o di Gianluca, il maestro di gioco, per usare una felice espressione di Biancaverri, cui competeva l'onere di mettere sul tavolo una parola chiave. Quindi abbiamo deciso di organizzarci in questo modo. Ogni volta gli appuntamenti erano caratterizzati dalla scelta di una parola chiave, solitudine, futuro, crisi, felicità, amore, morte, follia, amicizia, attorno alla quale addensare le storie. Allora qualche ragazza, di fronte a queste sollecitazioni, per esempio, rivelava la propria bulimia letteraria raccontando quel romanzo nel quale il tema della solitudine era stato così ben rappresentato da farla scoppiare a piangere. Qualche altra snocciolava con malcelata riservatezza le letture che le avevano letteralmente cambiato la vita. Stiamo parlando in questo caso di Se niente importa di Safran Foer. Qualche ragazzo esibiva le proprie conoscenze cinematografiche, allora per esempio raccontava di un film in cui il tema della solitudine era un tema centrale. oppure delle competenze musicali. Qualcuno diceva, ah c'è quel pezzo musicale di quel particolare gruppo che sicuramente può non solo fare da colonna sonora al libro ma esprime molto bene questa emozione, questo sentimento. Tutti comunque aprivano il forziere delle storie. Stavano facendo esperienza della lettura come pratica di navigazione nei territori dell'animo umano alla ricerca di tutti se stessi che sarebbero potuti diventare. Con il succedersi degli appuntamenti il gruppo ha imparato a custodire quello spazio fisico e simbolico innanzitutto nominandolo come il luogo dei pensieri mutanti, un felice tributo al fluire metamorfico che si andava sperimentando. Poi raccontandolo ad amici e amiche come il riparo di ciò che negli avamposti, e qui cito chi mi ha preceduto, di fuorilegge è stata chiamata la lettura bandita, nella duplice accezione di interdetta e colpevolmente delinquente. Il luogo cioè in cui togliere le briglie alle emozioni di lettura e concedersi commenti irriverenti, stroncature controcorrente, plausi inaspettati o scorribande nei territori della letteratura spazzatura, ma anche delicate incursioni nei sentieri interrotti della crescita personale. E a noi che cosa veniva chiesto? A noi, raccoglitori di storie, per parafrasare un libro che ai ragazzi è piaciuto molto, The Giver, è stato chiesto uno sguardo adulto ma non giudicante, capace di attraversare la loro allegra caoticità continuando a fare sintesi e restituzioni di senso. Abbiamo ogni volta tentato di abitare il conflitto laddove si generava, senza temere gli ammutinamenti o le defezioni che ci sono state e che certamente hanno rattristato la vita del gruppo. Siamo stati continuamente sollecitati a non abdicare alle richieste talora pervasive e totalizzanti. L'ultima è stata, possiamo vederci ogni due settimane? Per continuare ad accompagnarli dentro l'ordito delle storie, a caccia di scogli evolutivi da attraversare. Li abbiamo sostenuti, nella felice scoperta che le narrazioni regalano una postura strategica, uno stare al di fuori che consente di contemplare le spine e le rose, i conflitti e le gioie improvvise. Nel governare e il dipanarsi della discussione abbiamo fatto ricorso anche alla lettura ad altavoce, le storie della sera che aiutano ad attraversare la notte, che ci permetteva di sottolineare gli aspetti simbolici della narrazione il suo carattere epico. Tutto ciò senza dimenticare ciò che brulicava nelle loro teste, l'urgenza di riconoscimento da parte dei pari, un bisogno sotterraneo ma non per questo meno dirompente di appartenenza. Sapevamo, per averlo sperimentato in prima persona, che il gruppo rappresenta un potente nutrimento affettivo e stava a noi imparare a coniugare le richieste di riconoscimento nell'identità del gruppo con quelle apparentemente antitetiche di affermazione della propria singolarità. Oggi, a distanza di parecchi mesi dalla prima chiamata, abbiamo quasi il timore a riconoscere la fondatezza delle nostre intuizioni. Sappiamo che i pensieri mutanti sono quasi per vocazione una realtà liquida, cangiante e percettibilmente mutevole, ma proprio per questo anche uno straordinario laboratorio creativo di adolescenti e con adolescenti, dove poter praticare, almeno così ci pare, la poetica della formazione. E allora concludo citando di nuovo Giussi Quarenghi, che insieme a Aidan Chambers è, come dire, il nome tutelare del nostro progetto. Forse allora, dice Giussi Quarenghi, più che storie per, storie di e storie con. Forse, forse, forse. Storie da cui non uscire così tanto rassicurati, confortati, illuminati, gratificati, risolti, compiaciuti di sé, soddisfatti e rimborsati. Storie dubitative invece, magari. Storie forse. Storie punto interrogativo. Storie aperta parentesi. Storie in sospensione. Storie del quel che resta e quel che tarda. Storie cantiere. Grazie.